Se ti metti un dito lì sotto ti spacca il pollice Cosa fa? Oh, 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 ti sta salutando, ti sta salutando Bella raga, ciao a tutti, sono Gianluca Gazzoli Nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement Nuove avventure in realtà, perché qui si parla di avventure, si parla di vita, si parla di passioni Si parla di tantissime cose, lo si fa tra amici Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto Se invece lo avete fatto, beh, già sapete tutto, tranne il nome dell'ospite Ah no, non è vero, lo sapete perché il nome dell'ospite diventa anche il titolo Quindi in questo caso c'è poco da dire, si presenta da solo Yaki Dale! Salve, salve, ciao Gianluca E ovviamente Yaki, quando ti presento non posso non fare la premessa di tutti quelli che ti presentano male Abbiamo evoluzioni? O siamo sempre a... Jacky Dale, Jack Daly Jack Daly è un po' il tuo alter ego Yaki Dale Sì, 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 sì Yaki Negli Stati Uniti? Perché questo succede in Italia, solitamente quando... Jacky, Jacky Ok, Jacky Jacky è figo Però mi faccio chiamare JJ, tipo da Starbucks Bello Perché se no è un disastro Sì JJ, facile JJ onesto, JJ onesto, ci piace Bella JJ Che figo, sembra un giocatore di football americano Anche perché sei tornato ad andare spesso in giro per il mondo Sì, abbiamo avuto dei problemi tecnici negli ultimi due anni Ma adesso la situazione è migliorata e quindi si gira Piccolo, piccolo In realtà una delle cose più fighe che hai fatto, insomma, quest'estate ne hai fatte tante Di giri ne fai spesso tanti E una delle più forti sicuramente è un tuo ritorno Che in realtà ti dà grandi lezioni di vita Che abbiamo appena imparato fuori onda Allora, il buon Riky Pedi Riky Pedi vuoi dire qualcosa per dimostrare che ci sei anche tu? Puoi dire qualcosa? Un po' più velocemente, non è che abbiamo sei ore di tempo Uno guarda la puntata di un'ora può anche aspettare dieci secondi Riky Pedi, tu hai offerto dell'acqua a Yaki Sì E Yaki cosa ti ha risposto? Non si rifiuta mai l'acqua Questo ti insegna l'Africa Però deve fare click Ah sì Se no, chissà da dove arriva Ecco, l'altra regola dell'Africa, me la ricordo anch'io, deve arrivare tutto sigillato Ok, se no diventa un problema Scherzi a parte, cosa hai fatto quest'estate? Fammi un recap Allora, praticamente a luglio sono tornato giù in Kenya Con questa associazione che si chiama Una mano per un sorriso, piccolina Che avevo conosciuto l'anno scorso tramite Pietro Morello Sì, certo E nulla è stato tutto Perché lui fa questo spesso, no? Sì, sì, sì Lui da anni ormai parallelamente, anzi prima faceva queste cose qui Poi è stato a fare anche cose online Poi lui ha tutto il mondo della musica, fa un sacco di cose Incredibile Sì E quindi per scherzo con lui l'anno scorso a un sushi Io non sapevo cosa fare l'estate scorsa perché avevo un viaggio Ma a causa appunto covid era stato rimandato Quindi non potevo partire, non partire Mi fa, io tra dieci giorni vado in Africa in missione Ah, ok Missione, umanità Io non sapevo neanche cosa fosse E siccome poi si era liberato un po' Faccio, dai, chiedi se c'è posto Perché verrei volentieri, no? Un paio di settimane E quindi sono andato molto con l'idea di San Tommaso Cioè non vedo, non credo Voglio vedere con i miei occhi Ciò che realmente succede in un contesto di degrado Come quello delle baraccopoli Dove appunto lavora l'associazione a Nairobi Sì, sì, sì Di solito sono cose che si preparano Poi devi fare i vaccini In una settimana corri di qua, corri di là Ah, davvero in così poco tempo? Fai il vaccino di qua, fai il vaccino di là E sono partito l'anno scorso Con l'idea ovviamente di fare il video Nel senso che Cavolo, noi abbiamo sempre quest'idea Di questi spot Con appunto i bambini Le scuole, le cose Però sono abbastanza disumanizzati ormai Cioè non ci fanno neanche più effetto E quindi la mia idea era di raccontare Non la verità Ma raccontare il tutto dalla mia prospettiva Cioè dalla prospettiva di una persona Che va e che fa E che guarda e che scopre Senza giudizi Anche perché è una cosa che colpisce molto Poi nel tuo caso Questa è un'esperienza che colpisce tutti Io ci sono stato un paio di volte Tra l'altro in Ruanda Ed è un'esperienza che ovviamente consigliamo a tutti Però è una di quelle esperienze che devi fare In una situazione di questo genere Di non prendere, buttarsi all'avventura In territori che non si conoscono Perché sennò si rischia di fare solo dei danni Invece che fare del bene Invece con delle associazioni che si sanno muovere sul territorio È un'esperienza Secondo me davvero Davvero molto molto bella A me colpisce anche poi nel tuo caso Perché tu essendo ovviamente un grande appassionato di tecnologia Raccontando la tecnologia sui social Insomma adesso tra poco parliamo anche un po' di tutte le cose che fai Ovviamente qua ti sei presentato oggi al basement con un cane robot Sì 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 dopo lo proviamo Lo proviamo Ma devo dire non Cioè che effetto ti fa andare in un posto dove invece questa cosa non esiste Praticamente se non in piccolissima parte È assurdo perché ci sono delle contraddizioni gigantesche Se tu vai lì con l'idea di avere la verità in tasca Prendi delle mazzate senza nessun tipo di problema Cioè tutto ha le sue logiche Tutto ha Ma ti dico una cosa stranissima L'anno scorso abbiamo fatto una lezione di scienze improvvisata Perché era un momento in cui non c'era niente da fare Abbiamo detto ma sì dai proviamo a fare un po' di scienze con i bambini più piccoli Quindi 8, 9, 10 anni una cosa del genere Abbiamo parlato del ciclo dell'acqua Abbiamo parlato di varie cose Tipo appunto l'acqua liquida, l'acqua gassosa, l'acqua cose varie A parte che alcuni non avevano mai visto il ghiaccio Per dire Perché ovviamente non hanno frigoriferi Reazione? Vabbè lì dici vabbè Esiste l'acqua solida wow Ma poi parliamo delle tempeste, delle nuvole, dei fulmini E parliamo dell'elettricità Di cosa è fatto il fulmine? Di elettricità A cosa serve l'elettricità? Chiedo alla classe Questa cosa l'ho fatta in due classi La prima risposta Sai qual è stata? Cosa serve l'elettricità? Tu cosa risponderesti? Ad alimentare la casa, la lampadina La luce Tu charge the phone Per caricare il telefono Non che i bambini abbiano i telefoni Però magari nella famiglia di 20 persone C'è un telefono magari di 10 anni fa E la questione è che a casa magari non hanno neanche l'elettricità per ricaricarla Quindi loro magari hanno sentito che l'urgenza è ricaricare il telefono Capito? E quindi paradossalmente il parrucchiere Per dirti questa roba assurda Il parrucchiere ha tipo delle vaschette Dove la gente della baraccopoli va e mette in carica il telefono tipo doc Cioè lui diventa il lab dove poter caricare le cose Ma poi scopri delle cose Cioè è un mondo incredibile Qual è il ricordo più bello che ti porti di questa esperienza? Ma sicuramente le persone Cioè le interazioni che hai con le persone Che siano grandi, piccoli E soprattutto adesso che sono stato giù un mese Riesci a capirle meglio E senza giudicare Perché ripeto è molto facile vedere delle cose Che non hanno minimamente senso nel nostro mondo E che dici ma cosa diamine state facendo qui? Cioè qua in due minuti Il milanese è imbruttito nella baraccopoli Fate così, fate così, mettete l'acqua e boom È un altro modo di ragionare E invece è proprio un altro mondo, un altro contesto E loro sono vittime di questo sistema Che è anche colpa nostra Di quello che facciamo qui A me ha colpito sempre molto invece anche il fatto di come loro Non possano fare dei grossi piani a lungo termine Cioè tu oggi sei qua e pensi Allora ragazzi io fra cinque anni voglio fare quella cosa lì Lì si ragiona giorno per giorno Perché ovviamente la durata media anche della vita È un attimino diversa A giornata Però quando poi capisci Cioè a me affascina tantissimo Perché poi la cosa più bella di tutte Che mi piace Sì c'è la parte fare del bene Sì c'è la parte fare i video e raccontare Però la cosa bellissima è che tu impari un sacco di cose Su qualsiasi argomento Cioè non sei tu che sei lì a insegnare i bambini No 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 Sei tu lì a imparare ogni giorno qualcosa E questo è fighissimo A proposito di imparare Tu com'hai imparato a fare quello che fai oggi? Su internet Su internet? Sei stato autodidatta in tutto? Eh vabbè allora Scuola ho fatto le scuole e le classi Ho fatto il liceo scientifico Tutto molto bene Il liceo scientifico non ti prepara minimamente ai lavori di oggi? No però comunque io ritengo che sia utile No quello senza dubbio Sono contentissimo di aver avuto degli ottimi professori No no quello è chiaramente fondamentale Poi ho iniziato ingegneria e poi si è un po' arenata Adesso capiamo Anche perché tu hai iniziato in realtà a caricare video su youtube Quando ancora andavi a scuola giusto? Io il primo 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 video l'ho caricato tipo in seconda media Pazza le mie di eri Sì era il 2012 Io sono dieci anni che faccio video su youtube Nonostante ormai tu quanti abbia È 23 Ok ok E quindi sì no È sempre stata una cosa parallela alla scuola E però io penso che la cosa magnifica di internet E anche soprattutto di youtube È che la maggior parte delle cose che conosco e che ho imparato Le ho imparate lì Cioè dal montare un video Al come funziona bitcoin Al discorsi finanziari A discorsi di vita A discorsi filosofici Poi ovviamente devi essere bravo Perché è anche molto facile trovare cose sbagliate Sì Però cavolo è assurdo Ed è un'arma che poi noi non sfruttiamo mai Cioè la usiamo sempre per agire in modo passivo In realtà Cioè Qual è stato il primo video in assoluto che hai caricato? Cos'era? Ma il primo video che ho caricato è stato un video di me Con una Tipo un bob Una paletta da neve Che andavo sulla neve e cadevo Ok E lì è stata una storia asturda Perché in realtà I primi video li ho iniziati a fare Da piccolino Tipo a 8-9 anni Ho questo ricordo Praticamente mi hanno regalato la prima macchina digitale Io avevo già fatto un po' di foto a rullino Con un po' di macchine Mi regalano la prima macchina digitale I miei genitori Io faccio due foto Poi giro questa rotellina che c'era sopra Ok Vedo che si possono fare i video E mi si apre un mondo Ok E quindi inizio a fare video di qualsiasi cosa Ci sono un sacco di video che non ho mai caricato E forse più o meno prima o poi caricherò Sì Perché avevo come tutti i bambini Sì un po' di pezzi Ma non infiniti pezzi Quindi costruivo qualcosa Ok Poi se volevo costruire qualcos'altro Dovevo smontarlo e costruire qualcos'altro Ok Quindi il video diventava un modo per rendere Quel qualcosa che avevo costruito immortale Sì Per mostrarlo alla nonna che era in Trentino Per mostrarlo agli amici Per mostrarlo anche A me piaceva questa cosa di mostrarlo All'internet Di condividere comunque con le persone Quella che era la tua passione in quel momento E ovviamente nessuno li guardava questi video qui Certo All'inizio Poi però insomma Ne hai caricati tanti Ne hai fatti tanti Sei anche cresciuto tanto Al di là dei numeri Però tu come persona In conseguenza anche i tuoi interessi Cioè alla fine sei passato Adesso a fare dei video su cose serie Sì Allora ho avuto le varie fasi Cioè fase esperimenti e cose con i Lego Varie cose Poi ho fatto tutta la fase gaming Sì Facevo videogiochi molto Cioè come era YouTube Certo all'inizio Sette, otto anni fa E poi mi sono anche un po' rotto le scatole dei videogiochi Soprattutto poi i videogiochi vanno molto a mode Cioè c'è il momento di Clash of Clans C'è il momento di Fortnite Solo Minecraft è quello che Che resta Forever Però sai Gli interessi cambiano E anche le persone che mi seguivano Crescono Sì E quindi ho iniziato a fare altri video Non lo so Compravo il primo drone Facevo il video del drone Mi divertivo Vedevo che piaceva Certo E quindi piano piano ho fatto questo passaggio È stato un po' strano Nel senso che poi sai YouTube Ha delle dinamiche strane Se fai una cosa E poi il giorno dopo ne fai un'altra Non capisce più neanche niente Magari il video prima lo vedevano Centomila persone Poi lo vedono mille Certo Dai viaggi Dai viaggi la tecnologia Questo quello Quell'altro Alla fine Adesso l'ho trasformato In un mio diario Ok E non so bene cosa farò domani Ma qualsiasi cosa che farò La racconterò su YouTube Anche perché Appunto le cose che fai Che ti appassionano Sono Sono tante E io notavo soprattutto Nell'ultimo periodo Quando siamo tornati Anche di nuovo Finalmente a fare cose No E magari siamo stati insieme In tanti In tanti posti Eventi O situazioni Che sei proprio Una A parte perché ti conosco Però sei Un bravo ragazzo Ma sei soprattutto Molto amato Molto amato Cioè le persone Ti vogliono bene E ti seguono Bene E perché sono Ti seguono perché sei bravo In quello che fai E perché anche c'è un affetto Che si crea E che ho notato ormai YouTube essere Forse il Il mezzo che più Ti fa creare Questo tipo di Di rapporto Comunque Ti sei spiegato Su queste cose magari Perché tu E non un altro Hai questo tipo Di Di successo Insomma Perché adesso parliamo Anche di cose Chiare No allora Vabbè tante persone Sono amate in questo mondo Certo No no quello sì Però secondo me sì Cioè la cosa bella Di YouTube A differenza di Instagram O di TikTok O di chissà Quale altro social È che tu fai un video Di 10 minuti Di 20 minuti Di 40 minuti E la gente lo guarda Non sei lì A dover Accaparrare L'attenzione In maniera Quasi subdola Per dire Questo questo Quest'altro Chiaro che se fai Un video noioso Uno lo apre Uno lo guarda lo stesso Certo Però secondo me è questo E il fatto che comunque Cioè La gente mi ha visto crescere No e quindi Cioè tanti sono cresciuti con me Questa cosa è incredibile Ed è anche quello che è facile Poi perdersi C'è tanta gente C'è tanta gente che ha avuto Un'esplosione A 16 anni A 18 non l'ha mantenuta A 22 li ha persi tutti È un disastro È un disastro Perché mantenere i piedi per terra È molto difficile Cioè quando inizia a fare due numeri È molto facile sentirsi Il fenomeno del giorno Solo perché magari ti danno quella cosa gratis O perché hai l'invito Nel passo Questo o quello Poi ovviamente arrivano Sul lato economico I primi guadagni Facili oggettivamente Perché Però sono Sono facili Per il lavoro Che hai fatto prima No no ma dico È molto facile Avere delle cifre assurde In un attimo È molto poi difficile Gestirle Mantenerle nel tempo Nel senso che Il tizio che fa il video virale Poi magari si ritrova a far sì Le serate in discoteca Ma poi finisce lì Certo E quindi Cioè ci sono dei momenti Cioè è difficile costruire qualcosa È capito Quindi Non penso che sia facile Arrivare a delle cose Ogni cosa Ogni percorso Se arrivi a dei risultati È perché hai dato in qualche modo Un valore Detto questo Quando Arriva Il video che va Il successo Chiamalo che vuoi Arriva proprio in pompa magna Con tutti i vantaggi incredibili Ma con anche tutte le problematiche Secondo me E gestirla Questa cosa Cioè io ho visto della gente Fare delle cose Che hai visto anche tu Che dici Cioè Perché Buttare via soldi A fare le scelte O circondarsi delle persone sbagliate Poi non ti puoi più fidare di nessuno A un certo punto Poi considera che io sono Cioè ho iniziato a fare video Quando chi faceva video Era quello Chiuso in cameretta Nerd Che nessuno si calcolava Sfigato Certo E quindi io Cioè ho delle persone Che magari Non mi hanno mai considerato Ok Che poi tipo due anni dopo Sono arrivate Ehi ti ricordi di me Ma hai fatto come Sai che Jordan Aveva il suo Libro nero Libro nero Dove lui si è segnato Tutti coloro Che in qualche modo In passato Li avevano Ce l'ho in realtà Un libro nero Però è solo È goliardico È per te È per te È per te Non hai È solo per ricordarti Vedremo in futuro Chi eri e da dove Non sei nel libro nero Meno male È andata bene È andata bene Ci speravo Anche perché appunto Che cosa a te Fa rimanere Quei piedi per terra Sicuramente Anzitutto la mia famiglia Ok Cioè sembra strano Ma io sono sempre stato fortunato Non ho una famiglia Che sta bene Sì E che mi segue Che c'è sempre Che con cui ho Degli ottimi rapporti Che siano i genitori O che siano anche Gli altri parenti E questo secondo me È importante Perché sai È molto facile No Litigare Fare Io faccio questo Questo Quest'altro Sicuramente l'università Mi ha aiutato tanto Perché sai Mi sono trasferito a Milano E anche solo il fatto Di avere un impegno Alle otto di mattina Anche perché tu arrivi Dalla provincia Di Sembrianza Arona 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 Verso Varese Sì però in realtà È Piemonte Ok 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 E quindi Questo mi ha aiutato tanto E poi anche Cioè nel senso Ho trovato le persone giuste Gli amici giusti Con cui condividere le mie cose E E un po' i piedi per terra Ce li ho ancora Poi ripeto Noi viviamo anche in realtà In un mondo un po' parallelo In una bolla Perché Per dirti Durante il lockdown Io ho degli amici Ancora più nerd di me Sì Che li chiamavo E dico ma come stai Eh no come sta andando Ma a me non cambia niente Perché tanto io Ero già chiuso in casa Ero già chiuso in casa Stavo a giocare ai videogiochi Questo e quell'altro E dici boh E facendo tutto online Comunque noi siamo in quest'isola felice E quindi siamo un po' in una bolla Però ripeto È sempre Bello Certo Vedere e capire Poi Esperienze come quella in Africa Dici che torni con i piedi per terra Ma proprio Sotto terra Anche perché La figata Adesso Tu sei anche uno che sperimenta Su più cose La differenza ad esempio Sul mondo di Twitch Che sto vedendo adesso Che è un mondo Che per come lo stanno Viene utilizzato adesso in Italia È un mondo che ti tende a far Stare in casa O comunque in un luogo fisico Al buio Vedo tutte queste gente Che chiacchiera per un'ora Un'ora e mezza Al buio Chiusi in casa Cioè una roba Che forse Boh Non c'è giusto o sbagliato Però adesso sta andando Questa roba lì Invece la cosa bella Che ho sempre visto in Youtube E che Per cui anche io avevo iniziato così E altri social anche È che invece Ti fa vivere esperienze Come quella in Africa Come tante altre Tu ne hai vissute veramente un sacco E che ha a che fare con Con le passioni Insomma una cosa che ci accomune È il fatto che Noi scegliamo molto I progetti Le cose da fare In base a quello Che poi ci piace davvero Ed è quello che poi credo Che arrivi di più Alle persone Che ci seguono Eccetera E Questo per dire Qual è l'esperienza Più incredibile Che ti ha fatto fare Questo lavoro E che tu dici Cacchio Io ero veramente qui A fare questa cosa Con questa persona Io un'idea ce l'ho Però voglio sapere Qual è Qual è effettivamente Che ti ha fatto proprio sbalordire Vabbè Allora L'anno scorso in Africa Comunque è stata forse la cosa Dal punto di vista umano Più incredibile E anche quest'anno È stato impegnativo Diciamo Il sogno Sogno nel cassetto Che ho sempre avuto Da appassionato Del mondo della tecnologia È indubbiamente Quello di andare a Cupertino Infatti sapevo che era quello Che me lo immaginavo E lì è assurdo Nel senso che Uno appassionato di tecnologia Nel bene o nel male Nel mio caso Comunque Utilizzando prodotti Apple Tutti i giorni E conoscendo bene La storia di Steve Jobs Ritenendolo Uno delle persone Che ha cambiato il mondo Dove viviamo Essere lì Da Apple A vedere Quello che fanno E avere l'onore Di essere Sostanzialmente Nel loro quartier generale È stato È stato incredibile E Magari ci ritornerò Beh Chi lo sa Chi lo sa Beh lì tu avrei beccato Anche Tim Cook E ho beccato Tim Cook Ok Ho beccato Tim Cook Come è stato quell'incontro lì Ma in realtà era Letteralmente Nel delirio Accerchiato Da tutti Tipo Star Di Hollywood Però è stato Gli ho chiesto Se viviamo in una simulazione Sì Matrix E lui fa No penso che Che sia reale Penso che sia tutto reale Ma se lo dice lui E si è messo a ridere Perché c'erano tutti i giornalisti Che provavano Domande serie Sai Cosa presenterete Cosa farete E loro gli ho detto Facciamogli una domanda E si è messo a ridere Che secondo me Il nostro ruolo è un po' quello Cioè ovviamente c'è il giornalista Che fa quella cosa lì Però anche a me Quando capita di incontrare Certi personaggi La mia idea è sempre Come lo posso decontestualizzare Cioè come lo posso portare A renderlo più umano Anche rispetto a chi Magari sta Sta guardando in quel momento Quel video E quello è un po' Credo la La chiave Ah poi Non ti ho raccontato Di quella volta che Ho incontrato Michael Jordan Attenzione Questo è un passaggio obbligatorio L'incontro con Michael Jordan È il passaggio obbligatorio Tutti almeno Però Dobbiamo recuperarlo Il passaggio con Michael Ci arriveremo Anche il Pozza Ci arriveremo Ma quando è che racconteremo noi? Sì è vero Tutti stanno beccando Adesso tra un po' Inviteremo anche Il signore Che ha il negozio di sigari Ed è entrato Michael Jordan A chiedere i sigari Qua a Milano Qualche Io ho uno dei miei migliori amici Che adesso sta studiando A Charlotte Quindi andrò a trovarlo Casualmente Andrò a trovarlo Casualmente Anche la passione Per il basket Recentemente Ci siamo visti davvero Sul campo a giocare Eccetera Hai ripreso a giocare Con un po' di Di passione Sì sono uscite queste partite Un po' di beneficenza Un po' Eh Io giocavo Non sono mai stato Però ho visto insomma Ti ho visto a Venice Con il buon Voice Sì sì Lui poi si è preso bene Andiamo a giocare a basket Andiamo a giocare a basket No beh il basket A me ha aiutato tanto Comunque Nel senso che Al di là del fatto che Sennò sarei stato Semplicemente chiuso in casa A giocare ai videogiochi Quindi era un momento Per muovermi Sì Però io credo che sia Uno sport incredibile Cioè No no Con te sfondo Una porta aperta Assolutamente E queste cose che Adesso vediamo Nel senso che sarebbe Poi bello Fare degli eventi Fare delle Si sta creando Cioè li stiamo facendo Quindi insomma L'idea è Concretizzare sempre di più C'è tanta gente che gioca C'è tanta gente che giocherebbe Però non c'è niente da fare E c'è tanta gente nuova Che si sta approcciando Al mondo del basket Tra l'altro Ho giocato anche in Africa È vero Ho visto che hai beccato Tra l'altro Tommy Ah C'era anche La giusta E Tommy lì All'associazione Sì 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 Slam dunk Anche quella deve essere Stata un'esperienza Davvero Davvero incredibile Assurdo Tornando invece Al tuo percorso Tra i tuoi video Quando tu devi decidere Che video fare Cioè lo decidi a priori O vivi una cosa e dici Ok ci faccio un video Come sei organizzato Su quella cosa lì Cioè tu hai un palinsesto Che devi assolutamente rispettare Ti senti schiacciato Da quella roba No allora Vabbè adesso io ho due canali Il mio canale personale Diario Avventure Cose strane In giro per il mondo E poi il mio canale tech Molto più serio Dove faccio video di prodotti Di tecnologie Racconto cose Quindi per il canale tech L'impostazione che gli sto dando È molto più Seria Cioè bisogna coprire Delle cose da raccontare Si possono programmare Alcune cose si possono fare Anche mesi prima Perché determinate cose Quelle sono Quelle rimangono E lì voglio anche raggiungere Degli obiettivi O delle idee Poi anche di espansioni Su altri social Su altre piattaforme Quindi lì è molto semplice Cioè bisogna gestire Tutta la parte logistica Prodotti non prodotti Cosa fare Quando farlo Incastrarli Calendario Cosa esce Quando esce E si fa Ok Su Iachidale è un po' più Diverso Nel senso che Comunque è il mio È il mio posto felice Ho la fortuna Di non avere grandi vincoli Nel senso che Posso permettermi Di dire tantissimi Di no E posso permettermi Di fare tante cose Che voglio Ok Perché comunque Non penso di avere Grandi vincoli esterni Che penso sia Il risultato maggiore Che ho raggiunto Quindi se io voglio raccontare Una cosa assurda in Africa Posso farlo Se io voglio raccontare Di me Che vado In Turchia A farmi un giro Posso farlo Se voglio raccontare Del cane robot Che mi sono compratto Non ti senti Editorialmente vincolato E soprattutto Avendo ormai raggiunto Dei risultati È una porta di ingresso Per un sacco di altre cose Cioè voglio fare Quella cosa lì Scrivo Mi metto in contatto Riesco Se non riesco Comunque posso trovare Degli sponsor Per pagarmela Ok Non posso ancora Andare sulla luna Certo Per ora Ci stiamo lavorando E tu questa cosa La gestisci ancora da solo? Sì Allora ho dei ragazzi Che mi aiutano Però nella fase Di montaggio Tecnico Tutto quanto Però la parte Di gestione La parte di gestione Amministra Cioè la parte di gestione Diciamo commerciale Quella che di solito Fa un manager La gestisco io Ok Io ho lavorato E collaboro Con tante agenzie Per i progetti Però non ho nessuno Che mi gestisce In esclusione Nessuno che mi fa Da manager Ok Ho avuto Cioè sto cercando magari Qualcuno che mi dia Una mano a livello pratico Ma hai sempre fatto così O sei stato scottato Da qualche esperienza No in realtà no Sei sempre fatto così Ho lavorato più In modo Sistematico Con alcuni E con alcuni Mi sono trovato bene Con altri meno Però sono sempre stato molto Cioè collaboro con tutti E prendo da te Il meglio che mi puoi dare Che alla fine È una cosa molto tranquilla Molto serena Ovviamente poi bisogna Starci dietro Nel senso che Cioè se sto via Un mese in Africa La mia casella mail Diventa un disastro Quindi sto cercando Qualcuno che mi dia Una mano sotto questo punto di vista Devo capire in che forma L'idea è di Riuscire a creare Una struttura Che sia in grado Di gestire me Concettualmente Però è divertentissimo Nel senso che a me piace Un sacco Prendere e chiamare Il brand X E proporgli un progetto assurdo E farmi dare Dello stordito Perché è questo Poi chi ci crede Alla fine Alla fine il video Poi magari fa milioni E milioni di visualizzazioni Dicono No rifacciamolo Questo Quello Quell'altro Ed è una roba divertentissima Anche perché conosci Delle persone Conosci delle realtà Da Non lo so I vecchietti Che fanno marketing Che sono convinti Che la televisione Sia ancora L'unica cosa Al ragazzino Che ha in mano I social Di non so che cosa Che ci crede Che magari Non ti dà niente Nell'immediato Però ti permette Di fare cose interessanti E quindi questo Ed è molto Naturale Nel senso Che ci sono dei momenti In cui hai mille video E mille cose Che puoi fare Tipo adesso Cioè io ho registrato Un sacco di cose in Africa Ho registrato un sacco di cose In giro per il mondo Adesso devono uscire Un sacco di video Che ho già pronti E lì è molta organizzazione Cosa si monta Quando lo si fa uscire Però è una cosa Che mi chiedo Adesso Un personaggio Come te In questo caso Che sicuramente Fa anche tante collaborazioni Con brand E tante realtà Sempre poi affine A quello che sei tu Che poi è il segreto Di queste robe Ma se dovessi vivere Solo di YouTube Si può vivere? Sì Si può vivere solo di YouTube Solo di YouTube Pubblicità Dice Delle visualizzazioni Banalmente Nel mio caso sì Anche perché Insomma qua parliamo Di numeri comunque importanti Quindi nel caso Volendo uno potrebbe anche Quando c'è stato un momento Nella tua crescita In cui hai detto Che io posso fare Questo di mestiere Non tanto quando Ho visto i miei risultati Ma quando ho visto I risultati degli altri Ok Cioè io sono nato Sono partito su YouTube Quando sì c'erano già Altre persone C'era già Favij Ma non avevo capito Niente di quello Che era questo mondo Quando però incontri Per la prima volta Le persone Alle fiere Non so Al Games Week Al Romics Ai tempi E vedi che per loro È un lavoro Quindi c'era Quello che si era trasferito A Milano Che si pagava L'affitto veramente Certo Gli ho detto Cavolo Ok Cioè allora è una cosa Si può fare Si può fare Si può fare anche Da grandi Tra virgolette E poi su di me Questo roller coaster Hai avuto dei momenti Di difficoltà In questo periodo Cioè in questi anni Ma è sicuro Il momento appunto In cui sono passato Dai videogiochi A fare video È stato strano Fortunatamente Era ancora al liceo Quindi la priorità Era comunque la scuola Però è stato strano Perché appunto Io davo per scontato Che caricavo il video Fatto così al volo Sul videogioco E faceva centomila visualizzazioni Certo Cambiare Non avevi lo stesso feedback Poi magari facevi un video Del viaggio a New York Che una settimana di viaggio Due settimane per montarlo Un sacco di faginche Non guardava nessuno Capito E E lì subentrava un po' Di frustrazione Sì Sì E poi inizia a dare la colpa Al sistema Inizia a dare la colpa All'algoritmo Inizia Alla fine Se adesso mi riguardo Quei video lì Dico Era giusto Il video faceva schifo Nel senso Non lo guardavano E poi lì cos'hai fatto? Hai insistito? Ma Diciamo che c'era Anzitutto mi divertivo Ok E sono tornato a divertirmi Io ero arrivato a un punto In cui i video giocavo Solo per fare i video E io ho detto No no Sto sbagliando C'è qualcosa che non va E quindi mi divertivo un sacco E poi vedevo Sì magari non grandi numeri Però chi poi commentava Commentava delle cose intelligenti Diceva delle cose Apprezzava Quella determinata cosa Apprezzava un lato di me Che non aveva mai visto Ho detto Proviamo Proviamo Non proviamo Ho continuato Ho continuato Alla fine poi Questo quello Quell'altro Ho trovato un po' di più La mia dimensione Ok Che non è Oh questo è la stato Da libertà Musichetta 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 Ma è Cercare di raccontare Qualcosa di diverso Con una prospettiva diversa Che sia un prodotto Che sia un'esperienza Che sia un viaggio Cercare di fare quella cosa Che nessun altro farebbe Capito Qual è la roba più folle Che hai proposto Che ti hanno detto di no Allora Io sto ancora provando A fare un sequel Del doppio capodanno Ok Io ho fatto un doppio capodanno Tra l'altro 2020 Quindi tra il 2019 e il 2020 Siamo andati in Romania Sì Abbiamo festeggiato capodanno Al confine Poi abbiamo attraversato Il confine Ok Siamo andati in Serbia Un'ora indietro E abbiamo rifatto capodanno Ok Volendo fare le cose Che sei geniale Volendo fare le cose in grande Ma in grande grande Se ne possono fare Più di due Beh cacchio Vai in Australia Subito E poi ti sposti Da un'altra parte Ma non solo in Australia Ne riesci a fare 5 4 o 5 Nella stessa Australia C'è un punto in Australia C'è un punto in Australia Dove ci sono tre fuso orari Però per dire Tu hai un'idea di questo genere A quel punto cosa fai? Contatti i brand Che possono esserti d'aiuto? Sì Adesso non sono ancora riuscito No no però Tutto deve partire sicuramente Dall'Australia In questo caso Perché è il primo capodanno Che c'è L'Australia Fino all'altro ieri È stata sigillata Sì sì No però per dirti Questa è un'idea Che vorrei proporre bene Sì sì Allora io Tantissime cose Però capita come dicevi prima Che ti dicano Guarda Iachi Signor Dale Iachi Mi sa che è un po' troppo questa No capita Capita e capita soprattutto Che abbiano idee sbagliate Ok Cioè io faccio cibo E voglio che tu faccia tipo Benedetta Parodi E faccia il video del cibo Però vuol dire che non sanno chi sei Invece no Cioè se ti metti a costruire Il robot che cucina la pasta Quello è figo Allora lo faccio Capito Quello è molto divertente Però sì Cioè nel senso Di dieci proposte Nove finiscono male O da una parte O dall'altra Ok E questa è anche la mia fortuna Nel senso che ho comunque richiesta E posso permettermi di dire di no Di dire di sì Di decidere E non hai idea Cioè anche come immagino tu Dei no Ma anche Cioè A parte tutte le cose Che non si possono fare Gioco d'azzardo Certo E sigarette E bravo Ci sono delle cose Io ad esempio Mi sono Ci sono due cose in particolare Che ho detto Io quelle cose lì Non le voglio Non le voglio mai fare Perché non mi voglio associare A quel mondo Gioco d'azzardo Scommesse Alcol Io non dico neanche parolacce Nei miei video Certo Poi Poi C'è stato un momento In cui ho detto Cavolo C'era un brand di birre Che sponsorizzava Il Gran Premio Ok E ho detto Però Neanche la birra Quindi che è una via di me Io ad esempio Birra in realtà Perché non ne bevo tanta Diciamo Quindi non è neanche Una cosa real Però io non ho mai sponsorizzato nulla L'idea è di non sponsorizzare Ok Però lì c'era quella cosa lì C'era il Gran Premio di mezzo Poteva essere Beh perché lì poi dipende Sempre poi qual è Ma però questo Poi ci sono dei temi ovviamente Che non ho ancora Secondo me La maturità di toccare Cioè anche temi che mi piacerebbe toccare Ma c'è temi sociali Certo O questo o quello Che magari sto iniziando a toccare Ma con calma Pole pole come si dice in altri Pole pole Piano piano E però sì Ripeto Io sono molto libero Ma ti confronti Quando ti viene un'idea C'è una persona con cui Ti confronti per sapere Oh ragas con te è bella Se faccio questa roba qui Con tutti Ok Cioè Io ho una roba delle idee Che in realtà dicono tanti Ma poi pochi fanno E che veramente Non hanno grande valore Cioè tu le puoi raccontare Sì sì La gente si tiene le idee Pensando che uno Gliela rubi Chiaro E che senso ha Tu la devi raccontare Vedi se piace E poi la plasmi Sì poi dipende che idea Perché poi in tanti casi È probabilmente una cosa Che non verrebbe bene Se la facesse un altro Sì ma soprattutto Quando tu parli con le persone Già vedi nella loro reazione Se l'idea è C'è anche un bel test Per capire se quella cosa Funziona o no Certo E poi soprattutto Cosa rende secondo me Un'idea grande Unire varie cose Cioè andare Da Milano a Roma In bicicletta L'hanno già fatto Fare il viaggio Un po' più lungo In monopattino L'hanno già fatto Non è nulla Ma soprattutto Tutti ci hanno pensato Però pensare di andare Da Milano a Roma In monopattino È una cosa stupida Ma è un'idea In qualche modo geniale Originale sicuramente Poi E quindi È sempre questo Poi nel caso di YouTube Devi sempre cercare di estremizzarla Però sì io ne parlo Ne parlo con Tutta la gente con cui collaboro Ne parlo Ecco tante volte Dovrei stare attento Soprattutto con tante agenzie Che magari ti chiedono La proposta E ti chiedono E poi se la usano No soprattutto Tu magari Investi anche un sacco di tempo Perché pensi Non pensi Cosa gli propongo Gli prepari tutta la presentazione Con gli esempi E poi spariscono Certo Questa cosa succede Sempre E quando in realtà Nel mondo poi istituzionale Delle pubblicità Ci sono delle agenzie creative Che fanno quello Di lavoro e basta Capito E quindi Quella è una parte Un po' strana Però ripeto Dal tizio al bar A questo A quello Poi c'è sempre la mamma Che Lei è sempre quella Che Se ho un dubbio Nel dubbio Questo è bello Che comunque ancora Ti confronti Anche perché loro Come hanno vissuto Questo tuo percorso È stato molto graduale È stato molto graduale Cioè non ti hanno mai detto Yaki vai a lavorare Sai il classico discorso Di chi magari Un po' non capisce Il mondo È sempre stato molto lineare Nel senso che Finché vai bene a scuola Puoi fare quello che vuoi Io sono sempre andato Molto bene a scuola E poi Alla fine Quando sono venuto a Milano Ero di fatto indipendente Quindi l'università Me la pagavo io Le spese di vita Me le pagavo io E quindi E poi anche Papadale L'hai tirato in mezzo Qualche volta Lui è È ludico È videoabile Però ha dei grossi problemi Con la tecnologia È bravissimo A mille Super bravo Soprattutto a costruire Tutta quella parte lì L'ho presa Da mia mamma La parte un po' Creativa A livello di fare Costruire Immaginare Inventare Da mia mamma Sempre la parte creativa È questo Ma la tecnologia Certo E quindi sarebbe bello Dargli una videocamera In mano Il problema è che poi Però beh A livello di narrazione È forte Perché tu lo passi a così Diventa più divertente Noi ci divertiamo un sacco Bello Ma considera che Cioè nel senso Quando abbiamo costruito Il divano motorizzato Per dire Cioè il video era L'ultimo dei problemi Era quella la cosa divertente Era costruire il divano Qual è stato il video Che fino ad oggi Ti ha performato di più È quello dove ho mangiato Una settimana Solo pizza Una settimana solo pizza Perché alla fine Puoi fare tutto quello che vuoi Puoi andare Di qui Puoi andare In America Però se mangi Per una settimana Solo pizza Beh effettivamente Ha tipo 20 milioni Di visualizzazioni E sei ancora vivo Peraltro Quindi si può fare Quindi ragazzi Fate No è scherzo Questo era per il video Però Beh anche la maratona in casa È stata tanta roba Maratona in casa È stata tanta roba Milano-Roma È stata tanta roba Però sono tutte cose queste Ad esempio Come si collocano Nelle tue relazioni personali Cioè per dire Tu adesso sei singolo Sei singolo Sì è una fidanzata È singolo Ragazzi proponetevi Se siete appassionati di tecnologia E come Cioè io tante cose oggi Magari ho il limite Di dire Cacchio se io mi metto a fare Non lo so Delle cose in giro Delle cose che hanno Delle cose che hanno un impegno Fisico e di tempo Diventa un po' complicato Poi riuscire a mantenere Le relazioni A parte con una fidanzata Ma anche con Con gli amici stesso Tu sei un po' fuori dal mondo Da quel punto di vista È quello che dicevo prima Cioè siamo un po' in una bolla Io comunque ho trovato I miei amici E le persone con cui mi relaziono È comunque gente Che o fa gli youtuber O fa comunque cose online Che quindi capiscono questo mondo O comunque fanno cose Diciamo Con la massima libertà Nel senso che Non è la classica vita da ufficio Certo Dove non hai vincono Cioè La cosa bella è che Mi capita di fare delle cose Con degli amici Nelle giornate più improbabili E negli orari più improbabili Ok Quindi io penso che Sia una delle cose Che amo di più Il fatto di avere Flessibilità E libertà Di poter andare Più o meno Dove voglio Quando voglio Chiaro che poi Ho un sacco di impegni E devo sempre Incastrare tutto quanto Però quando poi Hai le persone giuste Con cui riesci a fare Questo Quello Quell'altro È bello Cambia la partita Certo I rapporti umani Sono sempre strani Perché nel mondo di oggi Comunque la gente Ti giudica Se prima ti giudicava Va solamente Per la maglietta che avevi Per l'orologio che avevi Adesso ti giudicano Anche in base Al profilo Instagram Al profilo di qui Al profilo di là Però lo vedi subito Se uno è interessato a te O è interessato a Al resto A qualcosa Anche solo Taggarti in una storia Per cosa Sì 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 Però c'è C'è questa Ed estendoci cresciuto Ho sviluppato Tanti filtri E per me Tante cose Sono normalissime Ok Però Secondo me Cioè alla fine Fa parte del gioco È chiaro che hai Dei problemi Alla fine È bellissimo Io dico sempre Faccio il lavoro Più bello del mondo Beh certo No poi ti piace Quello che fa la differenza Chi ti ispiri C'è qualcuno Che ti ispiri Cioè oh che ti sei ispirato Vabbè sicuramente Casey Nestat Casey Che ha fatto danni A tutti Salutiamo Santo Casey Che tu l'hai incontrato Io no Guarda voi C'è l'aneddoto Del mio Michael Jordan Del mio Michael Jordan E lui è Incredibile Lui ha letteralmente Cambiato una generazione Di youtubers E sicuramente Tanti altri americani Lui a me è sempre piaciuto Perché poi in America C'è sempre Io ricordo che Quando appunto Andavo in America In quel periodo A me mi ha sempre impressionato Come lo youtuber Lì fosse visto In modo serio Cioè Casey È un cazzo di regista Con i contro Che si è messo Ha fatto dei video Della Madonna E poi così A seguire Veniva proprio affrontato In tema Adesso ci siamo Quasi arrivati Anche in Italia Però ci sono voluti anni Siamo 5-6 anni indietro Sì esatto No beh Casey sicuramente Poi vabbè Io comunque Cioè ogni volta Che vedo qualcuno Che in quello che fa È un grande Da Roger Federer A Michael Jordan A Steve Jobs Dico cavolo Cerchiamo di capire Ed è incredibile Come poi alcune persone Che credono veramente In quello che fanno Cambiano il mondo Alla fine Sì assolutamente Elon Musk È un altro Che ti Io sono fan Della prima ora Ok Ci sono dei video Di anni fa Dove consiglio La sua biografia Questo quello È un grande È un genio È un alieno Secondo me Non è umano Vediamo cosa farà Nel senso che ogni tanto Ha delle uscite Che oggettivamente Mi preoccupano Perché Ha delle risorse Pressoché infinite In questo momento Che è l'uomo più ricco del mondo E ha ogni tanto Delle sue manie Di cose strane Però è un genio Cosa ti affascina di lui? Ma il fatto che lui Conosce ogni singola cosa Cioè Steve Jobs Lui aveva la visione Il prodotto La mentalità È molto più religiosa La sua figura Jeff Bezos È un ottimo Amministratore È un ottimo Businessman Sì Zuckerberg Ha avuto l'intuizione Elon Musk È un ingegnere Ma lui Ci sono i video Su YouTube Dove C'è lui che fa il tour Della fabbrica di Tesla O della fabbrica di SpaceX Dove si mette a raccontare Il bullone Del razzo Cosa serve Lui conosce Qualsiasi cosa Certo Lui è prima di tutto Un ingegnere Cioè lui Conosce i razzi Li progetta quasi letteralmente Lui Quando 6-7 mesi fa C'è stato un problema grosso Sullo sviluppo Dei Merlin Engine Che sono i motori Del nuovo razzo Che poi ci porterà su Marte Forse Chi lo sa Praticamente Il capo Della divisione Dei motori Si è licenziato Troppo stress Non riesce ad andare avanti Dice no Impossibile Tutto quanto Ed Elon Elon ha fatto un tweet Del tipo Tranquilli Tranquilli Per il momento Ho preso a capo Io la divisione Dei motori Ah ok Ci penso io Ok Beh E lui ha questa cosa qui Del controllare Ogni singolo Ma non so Come faccia Non riesco a spiegarmelo Neanche io Poi è veramente Molto carismatico Anche Nonostante Magari invece La sua figura All'inizio non lo era Adesso si è creato Questo Si è cresciuto L'ho letto peraltro Recentemente anche la biografia Ed effettivamente risulta non normale Che poi dipende Che cos'è la normalità Però è forte Ma va benissimo Però è incredibile Questa cosa qua Chiaro E su youtube oggi Anzi no Cosa ne pensi? Cioè qual è la figura oggi? Cioè cosa ti piace oggi Del web? Che cosa non ti piace? Non solo youtube Ma allora A me piace Sempre il fatto Che sia vero Ok Che però Per un lungo periodo Ormai Anche se adesso Sembrerebbe che qualcosina Voglia cambiare Però C'è tanta finzione Però la finzione Viene smascherata Eh capito Cioè non durano Le finzioni Su youtube O nel web E alla fine poi Le cose che funzionano Sono le cose vere Perché la gente Si è rotta le scatole Della pappa pronta E del contenuto Che ti racconta la cosa Con i paraocchi Certo E dei canali Che tu devi guardare quello Perché alle 14 c'è quello Infatti tu la televisione normale La guardi? No Però le piattaforme sì Piattaforme sì Poco però Guarda A livello di intrattenimento Tu sei youtube Assolutamente Poi leggo articoli Che ti piace oggi in Italia Di youtube? Ah in Italia Secondo me Fortissimi Vabbè Sicuramente Il mio amico Michele Molteni Certo Che adesso sta spaccando E si è andata a costruire E fare Il ragazzo Che ha fatto il bunker Sotterraneo Ok Poi tanti Cioè da Io so Sono fan della prima ora Di Yotobi Che comunque secondo me È un grande grandissimo Luis Purtroppo carica un video Ogni sei mesi Però quando carica il video È sempre qualcosa di geniale Stupido Divertente Qualcosa E vabbè Poi comunque mi guardano Anche i video di Foyce Perché cioè Lui poi Tra l'altro hai citato due casi Che sono Luis e Yotobi Che secondo me Ovviamente hanno un talento E proprio per questo Mi fanno Tra virgolette Un po' Innervosire Perché secondo me Potrebbero fare entrambi Molto di più Di quello che Che fanno Perché secondo me Sono molto bravi E anche Yotobi stesso Nel suo percorso Poi io non lo conosco Personalmente Uno tra quelli Che non conosco Però C'erano tanti momenti In cui Poteva costruire Di più Vedi una cosa Che io vedo Ad esempio In te E' questa continua voglia Di fare cose Di fare cose Di sperimentare cose nuove Di costruirti E di diversificare È anche quello che fai È molto facile Perdersi in giro Però perché Appena ti metti a fare Qualcos'altro Cioè prendi il nuovo studio Lo devi allestire Finisce tutto E non riesci più a stare No è che a volte Quando ti accorgi Che se tu fai una cosa Ha una risonanza così forte Sei quasi spaventato Da fare il passo successivo Secondo me ci sono Credo Due tipi di personalità Cioè chi come Io, Tobi o Luis Che sono geniali Sì Cioè loro sono geniali Cioè hanno quella cosa lì Che pensano Quella cosa Certo Quella è genialità Totale Sono d'accordo E loro Fin da subito in realtà Poi vabbè Io, Tobi è partito Esatto Poi lui è stato anche Precursore Pioniere di alcune cose Cioè Faccio Ogni singolo video Ha quella roba lì No E quindi Non hanno neanche prodotto Così tanto Però hanno sempre Avuto quella genialità E quella secondo me È arte Certo Io non ho questo valore Quindi il mio approccio È sempre stato Martellare, martellare Carico, carico Poi qualcosa Funzionerà Un mix Perché anche tu Hai della genialità In quello che fai Però hai anche Un approccio diverso Adesso sì Anche perché ho Le risorse di Certo Però soprattutto all'inizio Era un continuo Sperimentare Continuo a fare Ho fatto delle robe Bruttissime oggettivamente Però è divertente Però fa parte del percorso Chiaro, chiaro Recentemente ho visto Che ti ha citato Il buon Aranzulla Salvatore Beh lui è geniale Il video di Marcello Lui è forte Beh Marcello mi guarda i video Pietro Michelangelo Anche lui è forte Perché parla di Finanza E io sono molto contento Che io ho conosciuto In realtà Iacchi Perché commentavi i miei video E questa è una cosa Di cui sono molto orgoglioso Io sono fan di Gianluca Gazzoli Io sono fan di Gianluca Gazzoli Ma poi su YouTube Lui andava su Facebook Io su YouTube ero tipo uno degli unici iscritti Quindi parliamo di un po' di anni fa Perché Io mi ricordo tutto Mi ricordo di quando sei andato a fare la crociera Gli Emirati Arabi Quando hai fatto la roba a New York Quando hai fatto la proposta di matrimonio Io ho pianto in quel video lì Questa cosa è bellissima Però hai capito come ti rende a volte vicino E a me fa impressione come YouTube Oggi appunto facendo altre cose La radio, la tv eccetera Sono voluto tornare anche su YouTube A fare Passa dal basement e altre cose Proprio perché Mi sono accorto che ad oggi Ormai a un tot di anni di distanza L'affezione più grande da parte delle persone Le ho da chi mi ha iniziato a seguire su YouTube Perché evidentemente ti dà questo tipo di vicinanza Perché se no sei quello di radio Oppure sei quello che afferranno È che oggi il mondo va anche in quella direzione lì Io penso sempre di più Che saremo sempre più noi Anche creatori, editori di noi stessi E tu su questo insomma Stai anche costruendo un po' il tuo futuro Anche tu hai fatto il tuo impero Il tuo impero Cioè diversifichi su tante cose Hai l'occhio per Anche poi guadagnare Perché poi uno deve puramente Deve mantenerci, deve guadagnare Deve fare degli investimenti Perché a un certo punto Poi la parte più difficile è Ok inizi a guadagnare dei soldi Però cosa fa? Io ad esempio quello che guadagno Lo reinvesto quasi interamente nei miei progetti Non dico che non mi tengo niente Però è questo il senso della vita Se non lo uso per cercare di fare quello che mi piace È finita E tu fai più o meno la stessa cosa A noi sembra strano Perché abbiamo sempre questa cultura Ma poi Prendi Elon Musk Certo Vende Paypal 100 milioni Cosa fa? Compra Tesla e SpaceX Butta via tutto Poteva prendersi due ville Stare per sempre felice Sì E' anche un po' Un problema questa cosa qua Perché A me alla fine Diverte fare queste cose qui Ma non tanto fare i video Basta Mi diverte cercare Scoprire Conoscere E però è una continua ricerca Chiaro Quindi ti chiedi Ma prima o poi arriverò da qualche parte Non lo so Ti sei mai fatto una previsione Non di Cioè di dire Come sarai Dato che cambia tutto così velocemente In questi anni Anche le piattaforme stesse No? Sulle quali siamo noi Però se sei tu forte E hai delle cose Tu è forte Un mondo da raccontare Qualsiasi cosa apre anche domani La farai lì Però Come ti vedi fra cinque anni? Secondo me La cosa di fare i video E di raccontarmi da qualche parte Rimarrà sempre Ci sarà Sarà anche un po' di egocentrismo Sì Ce lo mettiamo? Sì Beh però non faresti questo lavoro Assolutamente E quindi questo sì Mi piacerebbe andare Un po' di più su alcuni temi Che piano piano Sto già cercando di introdurre Quindi avere un impatto Quello che mi sono reso conto È che sì Bello il video dove mangi una settimana Solo pizza Divertente Intrattiene Comunque regala un sorriso Regala qualcosa Però dall'altra parte Però poi è incredibile Quanto siamo potenti Nel bene o nel male Cioè Se tu fai le live su Twitch Dove Sei alle slot machine Fai il video poker Non è bello Cara grazia Ti voglio tanto bene Ma no Cioè no Quella roba lì è sbagliata E tu sei un danno Per la società Punto Punto Perché non stai facendo Niente di utile Stai insegnando A dei bambini Che ti seguono Che quella è una forma Di divertimento Che cosa E sotto diverse forme Tra cui questa Sta succedendo Questa cosa Stai facendo Stai facendo del bene E se hai un impatto Su centinaia di persone Su migliaia di persone Su migliaia di persone Tu stai cambiando Il mondo Capito Cioè quello è il concetto Certo E noi non ce ne rendiamo conto Di questo potere che abbiamo Poi In realtà Anche trovare un bilanciamento Cioè non è nostra responsabilità Cambiare il mondo E fare il bene No no Però hai una responsabilità Di dire Però è proprio assurdo Nel senso che Hai un super potere Da grandi poteri Derivano grandi responsabilità Quello Si torna sempre Buon Spider-Man E quindi però Questa cosa qui È affascinante E vorrei molto Lavorare su quello Cioè come posso Realmente Però lo stai facendo Guarda Ti dico una cosa Che avevo detto anche a Marcello Perché l'ho notata poi Anche in lui Che insomma Conoscendoci da tanti anni E anche tu come lui Avendo iniziato su YouTube In un momento In cui tu sei da solo Tu in una stanza E quindi non Non ti serve Avere relazioni col mondo Ti trovo sempre Cresciuto E quindi Anche più Più maturo Su tante cose E quindi questa È un po' un percorso Che fanno ovviamente tutti Grazie E quindi mi sembra Una grande figata E sono certo che Credo che farai questo Sempre a livello più alto Diversificando un po' tutto Ma soprattutto Quanti occhiali hai A chi dà Tanti Tu Elton John Siete i due personaggi Con più occhiali Praticamente È successo così A parte varie collaborazioni Che mi hanno permesso Di avere vari occhiali Grandi Io sono entrato In quest'ottico Mi ricordo Ero convinto Per una collaborazione Con un Con un brand Sì Ero convinto di Prendere un paio di occhiali Massimo due Ok Mi hanno detto Tutti quelli che vuoi Minchia Dobbiamo fare sei paia Ok Dobbiamo Perché poi c'era da provare Certo E io ho detto Sono nel mondo Dei balocchi Sì Sì E poi mi piaceva molto Questa cosa Anche perché Quando facevo videogiochi Io avevo l'occhiale tondo Ok Ed era una Sai la cosa di superman Che con gli occhiali Non è riconosciuto Era il contrario Ah se tu non avevi gli occhiali Se io non avevo gli occhiali Era nel tuo marchio Guarda che era una roba Al games week Anche perché poi Nei video di videogiochi Tu sei piccolino In alto a destra O comunque nella webcam E quindi Io andavo in giro Per il games week Mi mettevo gli occhiali Tutti Giochi Giochi Se volevi passare inosservato Ti toglievi gli occhiali Incredibile Solo che poi non vedevo E no certo Andavi a sbattere Ti venevano a prendere lo stesso Adesso sono Questa è un'esclusiva Sì Sono molto tentato Di fare l'operazione Davvero Sto studiando Anche perché mi piacerebbe raccontare Anche a me piacerebbe Io ho le dente a contatto Sono ciecato Mi piacerebbe di brutto Ed è l'unica cosa Di cui ho paura Cioè io ho fatto operazioni Di ogni genere L'occhio Non so perché Mi fa sempre molta paura Anche perché in realtà C'è un sacco di disinformazione Sugli occhi Quindi mi piacerebbe Poi raccontare Sul lato medico Io considero che È un altro tema Che vorrei affrontare Io considero Faccio un prelievo Svengo Ah quindi ok Beh quello può servire Poi infondere coraggio A chi fa Io ho scoperto Non lo sapevo Ho scoperto l'anno scorso Per fare la patente Di guida sportiva Sì Ho scoperto di essere Zero positivo Quindi dovrei anche donare Tendenzialmente Quindi adesso Una delle cose Che vorrei fare Però per dirti Tutta la tecnologia Dell'ambito medico Quello L'ambito militare L'ambito medico Sono quelli dove Sei più avanti L'ambito militare Lo teniamo lì Ok Però anche lì In realtà ci sono Un sacco di cose Fighissime Anche la difesa Pensa che L'Italia Tra i dipartimenti vari Considera La cyber security Allo stesso modo In cui considera L'aeronautica Per dire E sotto quel punto di vista Ci sono delle cose assurde Però dico Tutta l'industria medica È un mondo assurdo In cui sarebbe bellissimo Raccontare Le tecnologie Questo Gli interventi al cuore No no Anche con i robot Leggevo Questo è stato Un articolo Su Focus Proprio su Come il futuro Siano poi Gli interventi robotici Chirurgici Una roba proprio Spaziale A proposito Dai chiudiamo Con un saluto al cane Prendiamo il cane Salutiamo il cane Prova ad andare a recuperarlo Allora attenzione Tu quando ti è venuta L'idea di avere Un cane robotico È la prima volta Che ne ho visto uno Su YouTube Ho detto Lo voglio Solo che L'altra fila è complicata Della Boston Dynamics Ok Ai tempi non erano ancora in vendita Ok Erano solo prototipi Poi quando li hanno messi in vendita Erano a 85 mila dollari Ok Quindi già Ma questo È una collaborazione No 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 L'ho comprato dalla Cina Questa è la versione cinesissima Ok E sono assurdi Chiaro Poi ci hanno fatto di tutto Ovviamente vengono usati Per fare cose serie Io lo userò per fare cose stupide Sì però Tipo cose serie Cosa viene usato questo cane? Viene usato per tutti gli ambienti Dove l'uomo È meglio che non vada E soprattutto dove I robot Quelli classici a rotelle Non possono arrivare Perché lui avendo le zampe Riesce a superare gli ostacoli Riesce a fare le scale Se si ribalta Riesce a A tornare in piedi Per adressarsi Se si sta riscaldando Sì E poi dove Anche perché è bello complesso Eccolo Quella Poi ovviamente lo puoi programmare Perché ha tutti i sensori Tutte le telecamere Adesso lo possiamo radiocomandare Porco Giuda Che paura Che paura Si alzava a cuccia E poi lo puoi Non ci credo Sto male Sto male Questo è il suo modo Per dirci che è felice Esatto Sei felice E poi puoi fare Di queste cose Tipo questo E poi lui non devi portarlo A fare la pipì Sì però si scarica Poi puoi fare Tipo Se ti metti un dito Lì sotto Ti spacca il pollice Cosa fa? Oh Un nome A lui Glielo daremo Ma abbiamo il nome di Iachidale Questo è Iachidale Signori e signori Questo è molto alto Tanto sono curioso di sapere Questa notte Questa notte Adesso mi metto il culo in faccia Aspetta che guarda Senti come fa interferenza Nel microfono Ah è quello Pensavo fosse un verso Eh no Tanta roba Va bene Non me lo troveremo Iachi grazie davvero Posso un po' di qua A favore di camera Ok Iachi grazie davvero Per essere passato Grazie a te Grazie per questa chiacchierata Sempre molto bella Di grande ispirazione Sono certo che Sarà di ispirazione Per tante altre persone E ci vediamo alla prossima Dai Bella Iachi Grazie Ciao ciao